Nel corso di servizi mirati da parte dei militari d'allarma sul territorio Ibleo, quattro persone sono state trovate risere in possesso di sostanze stupefacenti. Uno a Monterosso Almo, tre a Santa Croce e Camerina erano in possesso di Mariano e Brown Sugar, mentre dei quattro, due di loro, ragusani, sono stati sorpresi a fumare una canna in auto, lo spinello o quello che nel rimasto è stato sequestrato e tutti sono stati segnalati alla prefettura. Inoltre le pattuglie, rispettivamente di Ragusa, Monterosso e Santa Croce e Camerina, hanno fermato e controllato diverse autovetture, mentre i conducenti sono stati sottoposti a test etilometrico. Nessuno di loro è risultato positivo, quindi hanno portato a casa tutti la patente. Un dato sicuramente positivo, rimarcano al Comando Provinciale dell'Arma, con la speranza che la tendenza possa in futuro consolidarsi. Durante lo stesso servizio, sono stati controllati anche una quindicina di persone sottoposte a varie misure restrittive, tra arrestati, detenuti domiciliari, sorvegliati speciali e affidati in prova. Uno di loro non è stato però trovato in casa, per cui è stato deferito a piede libero, proposto per lui anche l'inasprimento della misura cautelare in corso.